Voglio essere libero, libero come un uomo. Buonasera, nella puntata di oggi torneremo ad affrontare il tema che riguarda ben 2000 studenti siciliani che non godono del diritto costituzionalmente sancito di poter studiare, di poter completare il loro ciclo di studi. 2000 studenti che a causa della lentezza, per non dire della staticità della regione siciliana non possono frequentare la loro attività di formazione professionale o di istruzione, nel caso specifico di obbligo scolastico perché la regione siciliana continua a non avviare i relativi corsi, corsi ai quali sono regolarmente iscritti questi studenti, abbiamo detto sono circa 2000 in Sicilia, che hanno frequentato regolarmente per esempio il primo anno ma non possono frequentare il secondo e il terzo, hanno frequentato il secondo ma non possono frequentare il terzo, eccetera, eccetera. Insomma sono dei giovani a cui viene negato il diritto allo studio, giovani che sono costretti a fermare la loro vita a causa di una inadempienza della regione siciliana, una inadempienza gravissima perché è una inadempienza legata ad un diritto costituzionalmente rilevante che è il diritto allo studio. Cosa fare? Bisogna immediatamente intervenire, bisogna fare in modo che la regione attivi immediatamente, immediatamente senza nessun ritardo neanche di un minuto i corsi che riguardano l'obbligo scolastico perché in questo modo non soltanto permetterà a questi studenti, a questi 2000 e oltre studenti, 500 dei quali, pensate, 500 dei quali sono nella sola città di Catania, non solo permette a questi studenti di poter continuare il loro ciclo di studi e di poterlo completare così come la legge gli consentirebbe, se ci fosse un minimo di funzionalità della macchina amministrativa regionale, ma consentirebbe anche a alcune centinaia di dipendenti degli enti di formazione professionale a cui è affidato il compito di formare appunto questi giovani, di accompagnarli verso il completamento del cosiddetto obbligo scolastico di poter tornare al lavoro. E invece oltre al danno c'è la beffa, c'è il danno di un diritto costituzionale sancito e non rispettato da parte dello Stato, in questo caso da parte della regione, dall'altra il diritto al lavoro dei dipendenti della formazione professionale che sono sospesi, si trovano in una condizione di limbo che non consente loro né di andare avanti né di andare indietro il tutto, mentre appunto potrebbero tranquillamente tornare ad insegnare, potrebbero tornare in cattedra garantendo a loro e alle loro famiglie lo stipendio che è dovuto, ma soprattutto garantendo a questi giovani, questi 2000 e passa giovani che attendono di completare il ciclo dell'obbligo formativo, di poterlo fare, di potersi collocare nel mercato del lavoro con le carte regola, insomma in modo tale da poter accettare un'offerta di lavoro, in modo tale da potersi proporre come lavoratore in una condizione di istruzione assolutamente regolare come è previsto dalla legge. Questo ancora non accade, questo ancora determina lungaggini, determina proteste, determina azioni di sciopero da parte degli operatori del settore, determina però una sostanziale interruzione di un servizio che è un servizio che non dovrebbe mai essere interrotto. L'istruzione è un po' come la sanità, non si può bloccare il percorso formativo di uno studente impedendogli di poter usufruire di un diritto costituzionale, così come non si può omettere di soccorrere, di curare un paziente solo perché qualche carta di natura burocratica non ha girato per il verso giusto o qualche ufficio non ha funzionato come doveva funzionare. Ci troviamo in una regione squinternata, in una regione che non è per niente governata, è del tutto disamministrata e i cui danni per questa disamministrazione non si collocano in quelli che sono i temi della macropolitica. Purtroppo anche quelli trascurati, anche quelli in alcuni casi del tutto ignorati, si collocano addirittura ai livelli della micropolitica, del diritto di tutti i giorni, del diritto di ottenere un rapporto costante, diretto, efficace, efficiente con la pubblica amministrazione, del diritto allo studio, del diritto alla salute. Una regione che non è in grado di assicurare il diritto allo studio e il diritto alla salute è un ente inutile, è un ente anzi dannoso, parassita, che anziché favorire i cittadini li danneggia, anziché favorire i cittadini nell'esercizio dei loro diritti, li danneggia li ostacola in maniera tale che quei diritti e gli altri che potrebbero fruire grazie appunto al riconoscimento delle possibilità di studiare, la possibilità di curarsi, potrebbero far valere nella loro vita, nel loro modo di essere, nel loro modo di pensare, insomma proiettandosi all'interno della società in maniera assolutamente regolare. Questo in Sicilia non accade e quello che è più grave è che nessuno ha ancora attivato una procedura di impeachment nei confronti del Presidente della Regione, dell'Assessore Arramo, del Governo, insomma della Regione, che su questo tema è inadempiente, gravemente inadempiente, anzi sta violando un diritto importante commettendo un reato che è quello di impedire fisicamente a chi ne ha diritto di poter essere assistito, di poter frequentare un corso di studi, di poter completare il suo obbligo formativo, di poter essere curato nel campo della sanità e quant'altro. Speriamo che questo non si ripeta più, speriamo che questo genere di appello possa rapidamente essere ascoltato, altrimenti veramente saremo una Regione non di serie B ma di serie C. Buonasera. Voglio essere libero, libero come un uomo. Grazie. 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 Grazie.